Sono bastate poche ore per far tornare esattamente le cose come stavano la ex casa cantoniera di via Tiburtina a Pescara. Ieri mattina le nostre telecamere sollecitate dai residenti e dal consigliere comunale Massimiliano Di Pillo e a seguire l'intervento tempestivo degli agenti del gruppo di intervento operativo nucleo antidegrado della polizia municipale dei carabinieri. Come si temeva, all'interno della struttura è stato trovato un uomo di nazionalità marocchina segnalato all'autorità giudiziaria. Dopo qualche ora l'uomo è tornato per poi essere allontanato nuovamente su disposizione del PM di turno. Ma i residenti, sempre attenti a quanto avviene in quella zona, teatro di continuo spaccio, prostituzione, degrado e bivacco, ci hanno documentato con immagini e foto quanto è avvenuto nel pomeriggio. Altre persone sono tornate sul posto e in una situazione in particolare si vede chiaramente un uomo che si droga. Purtroppo fondate le preoccupazioni che solo ieri mattina ci hanno manifestato i residenti, non basta un intervento per quanto efficace e tempestivo dalle forze dell'ordine. Andrebbero presi i provvedimenti più drastici. Andrebbe intanto intimato il proprietario dell'immobile a mettere la struttura in sicurezza e comunque non lasciarla nel degrado. Da questo punto di vista qualcuno ci ha già provato ma senza ricevere risposta, autorizzando a pensare che dovrebbe intervenire un'autorità amministrativa o giudiziaria. E poi, come segnalato da Messimiliano Di Pillo, proprio dai microfoni della Tg8, studiare interventi di politica sociale più incisivi per evitare il ripetersi di situazioni così sgradevoli. Grazie a tutti.